Ciao a tutti e benvenuti con la nuova parte di Mario Party DS Siamo nella parte 3 e nella scorsa parte abbiamo continuo a tentare bellone E' una cosa, da quando io ho chiuso la seconda parte non ho saputo che tu non sei Quindi io rifacendolo ho cambiato tutto, lo vorrò vedere Oh, attento Vedete, ora ho a Luigi il primo, io sono secondo, Mario è ultimo e PC è terza Siccome perché non ero più grande magari verrà la stella Perfetto, la sei Ora io sono primo perché ho la seconda stella Lì? No, di odo, dovrei fare tutto in giro per infilare Oh, non sono primo, ho avuto fortuna Vedete cosa fanno gli altri Se si adagava una, andava fatta in protensa Ma Luigi dice, è andato su quel fiore e beccato trenta Perché sul fiore sa da uno, dieci centoni e trenta Vedete cosa fa Peach Tutto in blu, o facciamo mini giocatori Che facciamo questione d'equilibrio Semplicissimo Però trasferra Fatelo così e basta Un minuto è il record, che cagata Sono stupido per fare quel record Fine No Quanta volta ragazzi, quanto tu hai durato due minuti e mezzo Andiamo avanti Ah ah, cinque, dove vado a finire? Ho la mia stessa trappola Cinque centoni Ma me lo tre No Mario è scelto No Dove è la prossima? Dietro di lui Vicino a Luigi Ah ah, ha beccato la mia trappola Danci Tony subito Le sue nove, che se ne frega Ah 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 Ma venuto c'è Tony Ha beccato la mia trappola Per la prima volta ma va col paese ora è il primo ecco vicino a me potrei farcela ma cosa è che loro mi ha carato lì si può anche arrivarci due locutoli in me siccome lui primo sceglierà il secondo posto cioè io 10 centoni quindi 20 a prova di cerchio devono prendere il guba a cerchio facendo un cerchio guardate su mettete il puttaccio quali due lati vengono tre le bove vittorio fanno togliere il guba ho vinto io ok ok ho vinto ben diota io sono primo uno cotto tre vediamo qui cosa esce attacco dei pictures semplicissimo andiamo a coprire di loro guardate un po' ragazzi ho fatto cia guardate un po' prendo quello faccio così mi comando per bloccare il compito oh guardate cosa succederà lo eliminerò tutti l'ho detto che li avrei eliminati in un colpo solo i'm super star ho solo prima ancora ho 60 centoni bene ehi che tu non siamo siamo la nonna ultimi due turni andiamo avanti quattro se vado lì per robe che ero la trappola di peach che frega lo so voglio prendendo la tua stella non importa non potevo adesso che giro sì che fortuna cioè mi ha sconsolato la stella ma io ho avuto un'altra che fortuna di solito i cubi mi accadono un cetone oppure un artello oppure perché una stella maledetta mi toglie una beva Mario è fatto però saprete d'è Wowluici Wowluici e te è primo non soffriamo mai a preda la stella che è lì e si verrava un uccetto ti vedo qualcuno se sfidarlo magari ce la farò 1 4 3 ok come ho detto credo che non ci riusciremo a battere qua luigi ormai siamo al ultimo turno guardiamo un po' imbarato della scelta la nuova non salvi mio mario 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 ok ecco come ho detto imbarato della scelta ancora la ci vado come ho detto no la carabia se no ci colpisce ecco ce l'ho fatta oh vado lì che no ci sono andato è tutto bene ok che è più ci ha perso bravo capriera bravo bravo oh ragazzi non capire come batteremo a lui ce ne faremo mai a superarlo ma dopo ho tre stelle io ci sono due ci sono andato ormai a superarlo vedete ormai ormai quanto è il tuo turno come me lo batto oa luigi dobbiamo rifare il turno perchè eh se si è capito a vincolo non batteranno mai i boss e tutto a fare rifare e tutto a fare dovremmo rifare e non è possibile ciao ciao io mi metto ancora il più grande grazie ora ora sono tutto il terzo bene non ci afferrò mai se stai da qui ma però questo è il tuo turno no non ci afferrò mai non ci afferrò mai non ci afferrò ma non ci afferrò l'altro è un po' dei cettoni dal mare vedrete i punti no non mi trovi niente con quelle fiacciate i computer dove evitare la marea andiamo entri oh vittoria ormai che se ne frega ormai ha metto a luigi ehi spilberg ah un falco uno non 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 voglio si beh ragazzi avvento a luigi non 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 non